Ecco, i risultati delle altre li conosciamo e quindi sappiamo che la Juventus, comunque in una situazione difficile, è riuscita a prendere un punto proprio con la Lazio all'Olimpico. La Roma è riuscita a vincere a Verona e la Fiorentina alla fine, diciamo per fortuna del Napoli, è stata bloccata sulla 3-3 in una bella partita con il Genoa. Questo significa che il secondo posto, che è l'obiettivo del Napoli, si allontana perché la Roma è 6 punti avanti e nello scontro diretto siamo anche messi male, anche se si deve giocare quella di ritorno al San Paolo, però 2-0 all'Olimpico per la Roma, mentre la Fiorentina resta a meno 3 dal Napoli, lì nello scontro diretto siamo messi bene perché il Napoli ha vinto 2-1 al Franchi, quindi questo è il quadro della situazione. Per il resto la Juve non è irraggiungibile, 12 punti avanti, l'Inter e tutte le altre sono 11-12 punti dietro, quindi difficilmente avranno la forza di rientrare, quindi direi concentriamoci ancora sulla Roma e molto sulla Fiorentina realisticamente in questo momento. Vediamo cosa ne pensano i tifosi ai microfoni di Nunzia Marciano. Che cosa è mancato al Napoli? Al Napoli è mancata tutta la preparazione atletica, stanno giù proprio di gambe si vede, e poi le idee, non si può attaccare in quel modo sconclusionato, sempre centrale, sempre centrale. Dall'alto non arriva una palla in mezzo perché gli esterni non sono buoni, purtroppo le vegliete e maggio non hanno giocato male. Siamo stati sfortunati e che altro è mancato? Manca l'acqua, il mister beve troppo vino, acqua, acqua. Nella Urendi si deve comprare, comprare giocatori importanti. Che cosa è mancato al Napoli? È mancata un po' di grinta, giocano sempre molto con passati, non so perché. Ce l'hanno messa tutta, però ci è mancata la convinzione, perché questo Chievo alla fine non ha fatto nulla. Non bianco per dignità, manca una difesa veramente. Quelli che abbiamo sono in ospedale. Devo dire che nonostante l'amarezza che avevamo tutti, i tifosi del Napoli sono stati praticamente tutti molto spiritosi ai microfoni di Nuzia Marciano al termine del match, anche se l'amarezza era visibile sul volto di tutti i tifosi che sono intervenuti ai nostri microfoni. Andiamo a vedere ora come ha parlato in questa sua prima intervista in una televisione italiana, mi viene da dire, in tante televisioni italiane, perché non ha parlato solo con noi, però in lingua spagnola. La cosa è un po' divertente che il Napoli ci abbia mandato a fine partita un giocatore che si comprendeva abbastanza le nostre domande in italiano, però rispondeva tranquillamente, senza interpreto ovviamente, in spagnolo. Quindi sentiamoci questa intervista, non siamo diventati Telemadrid, siamo sempre Canale 8, ascoltiamo Albioli. Raúl, è arrivato il tuo gol, primo gol con Napoli, però delusione per il pareggio. Sì, non è un buon giorno per marcar, anche ha sido un punto, però credo che il squadra gana e io non marcaro gol. E' triste perché empatare in casa è un mal resultado. Nosotros, abbiamo bisogno di stare a noi e raggiungere i nostri partiti. Ci sono molti campionati, molti partiti e abbiamo bisogno di aggiungere 3 in 3 e olvidare della Fiorentina e della Roma. I tifosi hanno detto che vi è mancata grinta, noi li abbiamo ascoltati. Secondo te che cosa è mancato al Napoli? Abbiamo bisogno di apprendere dei errori di oggi e di sapere che abbiamo bisogno di andare con più intensità, dal minuto uno, perché oggi il equipo non lo ha visto male, perché Chievo ha tirato due volte a porteria, ha fatto un gol, però abbiamo bisogno di provare che non tirare nessuna, perché con 0-1 il partito ha sido molto complicato e abbiamo bisogno di lavorare più in allenamenti per provare questi partiti che si mettono tutto il equipo in defenza, per farlo. Ecco, ora non faccio la parte di quello che conosce lo spagnolo, però vi traduco velocemente il senso, almeno delle dichiarazioni di Albiol. Nella prima dice che non è molto poi contento per il suo gol, anche se vale per conquistare un punto, perché l'importante per lui avrebbe preferito chiaramente non segnare, ma portare a casa i tre punti per la squadra. Poi nella seconda risposta parla della corsa che il Napoli deve fare su Roma e Fiorentina, guardando il campionato di queste due concorrenti dirette, ci sono tantissime altre partite e noi dobbiamo giocare sempre per i tre punti tutte le gare. Nella terza invece alla domanda di Nunzia risponde sul cosa è mancato al Napoli, avete sentito, parla di primo minuto, dobbiamo scendere in campo bene concentrati dal primo minuto, anche se poi ricorda che effettivamente questa concentrazione è un po' è mancata, un po' è mancata la forza, la squadra si è stanca, però anche il Chievo al primo e unico tiro verso la porta è riuscito a trovare il gol. Questo in sostanza è quello che ha detto Albiol, ora andiamo a ascoltare invece un altro spagnolo che però parla in italiano ed è Rafa Benitez. Buonasera, pronti? No, la scelta tattica è tutto lo contrario, è attaccare dal primo minuto e provare a fare gol, ma è chiaro che loro hanno lavorato bene nella fase difensiva e nella ripartenza e noi abbiamo iniziato senza questa velocità di gestire la palla, di girare la palla che alla fine può fare la differenza quando l'altra squadra è ordinata dietro la palla. Non credo solo per noi, credo che per qualsiasi squadra, se l'altra squadra aspetta tutti dietro la palla è più difficile trovare l'espazio che se sono scoperti e poi fare una ripartenza. È chiaro che è stato così dopo che loro hanno fatto il gol e non abbiamo trovato l'espazio con la velocità che dobbiamo farlo per arrivare in gol. Abbiamo fatto tre tiri pali, tre pali e tre quattro occasioni che poteva cambiare tutto. Non l'abbiamo fatto, dico che non abbiamo giocato con la velocità che dobbiamo giocare, ma ancora se poteva vincere la partita. Ho detto tante volte che continuiamo lavorando per cercare questi rinforzi. Abbiamo ancora tempo, se troviamo i giocatori di qualità e il prezzo giusto per rinforzare e per rinforzare questa squadra, proviamo sicuro. Come ho detto prima, continuiamo lavorando ogni giorno, siamo sempre guardando i giocatori, parlando con loro, al telefono. Qualche volta si può e qualche volta non si può. Io credo che oggi soprattutto la velocità al gestire la palla. Il ruolo che cerchiamo, sappiamo due o tre ruoli, che se troviamo il giocatore giusto, proviamo. Giorginio è un esempio di un giocatore di qualità, che tanta gente diceva sì, ma ancora non è sufficiente. Ha mostrato oggi che è un giocatore che può dare una mano, che può essere importante. Questo è lo che cerchiamo. Noi, ho detto che noi guardiamo avanti. Io credo che per giocare al livello che dobbiamo giocare, dobbiamo essere tranquilli, avere fiducia in noi stessi e fare le cose che abbiamo fatto all'inizio. Questo dobbiamo recuperarlo. Il secondo tempo con il Bologna l'abbiamo fatto, oggi l'abbiamo fatto nel secondo tempo e dobbiamo farlo di inizio alla fine. Sì, il problema è se l'altra squadra ti aspetta con 11 giocatori dietro la palla, o è una palla lunga o è girare la palla con velocità e trovare l'espazio. Questo l'abbiamo fatto. La palla lunga senza spazio abbiamo perso 2-3 perché è difficile, si sono al limite dell'aria. Credo che tutte le squadre al mondo hanno problemi se l'altra squadra ti aspetta. Una è più precisa, un'altra meno precisa e noi dobbiamo essere più precise perché oggi abbiamo perso qualche palla che non dobbiamo perdere. Soprattutto un risultato, credo che è udineo, se Parma sono partite che udinese dobbiamo vincerla perché abbiamo fatto un errore in un calcio d'angolo e Parma poteva essere un pareggio, non una sconfitta. Credo che la squadra oggi, se facciamo gol, nella prima di Mertens, cambia tutto. Credo che dobbiamo essere più precise, avere più intensità e così sarà più difficile per loro. La questione di Marek, prima quando non giocava d'inizio, diceva no, deve giocare d'inizio. Adesso la realtà, noi sappiamo che si allena, ma adesso che ha giocato la partita possiamo dire che le manca un po' il ritmo della partita. E così, non è due mesi, uno fermo e dopo inizia a giocare allo stesso livello. Credo che ha fatto un grande lavoro, ancora se la squadra è più precisa quando paleggiamo, lui giocherà ancora meglio. Sempre è importante puntare in tutte le competizioni per provare a vincere. Chiaramente io dico che una partita alla volta, la prossima partita è una partita della Coppa Italia e dobbiamo vincere se vogliamo andare avanti. Abbiamo fiducia e dobbiamo fare le cose che abbiamo fatto all'inizio con la velocità, con l'intensità che l'abbiamo fatto all'inizio e così sarà sempre più facile vincere al San Paolo o vincere in trasferta. Perfetto, grazie. Buonasera. Io credevo davvero che il Napoli si fosse reso conto con le difficoltà che ha avuto durante questi mesi, anche se le cose sono andate bene in termini di risultati, però le difficoltà ci sono state perché l'organico era già corto. Poi sono successe una serie di cose, il caso Cannavaro, alcuni giocatori infortunati, molti giocatori importanti, infortunati, prima Iguain, poi in un certo momento Reina, Amsic, Berami, Zuniga, Mesto, infortunati per un periodo molto lungo come lo stesso Amsic. Insomma, si è creata una situazione che aveva portato il Napoli ad avere un organico che già non era completo all'inizio della stagione. Poi, in presenza di infortuni e di altre vicende che sono accadute e sono sotto gli occhi di tutti, era diventato addirittura corto. Con un organico corto che cosa è successo? che alcuni giocatori che non sono abituati a giocare sempre e tanto sono andati in un evidente calo di rendimento e per esempio l'ultima partita di Iguain dimostra che servirebbe e serve un'alternativa forte all'attaccante straordinario argentino. Le prestazioni di Hiller spesso e Gemayli qualche volta non positive dimostrano che con l'infortunio di Berami già erano pochi in tre, in due sono diventati pochissimi. Poi è arrivato Giorginio però Giorginio è arrivato dopo aver giocato già praticamente due partite quella col Bologna e con il Chievo e gli altri giocatori dovrebbero arrivare questa settimana quindi direi in ritardo colpevole lo definisco così il ritardo della società un ritardo colpevole secondo me i quattro punti che il Napoli ha lasciato per strada con avversari come il Bologna e il Chievo largamente alla portata degli azzurri sono proprio da attribuire a questa stanchezza che poteva essere evitata con una rosa diciamo così possiamo tornare in studio una rosa diciamo rinfrescata da qualche innesto fatta ad inizio gennaio il Napoli non ha voluto derogare a quelle che erano le sue strategie di mercato questa a mio avviso ha fatto perdere questi quattro punti certo non c'è la controprova di quello che dico ma ho la sensazione netta che questo sia successo e questi quattro punti voglio soltanto sperare che non siano decisivi a fine anno per qualche cosa di importante per quello che è il traguardo del Napoli cioè riguadagnare un posto in Champions vediamo che cosa succede nelle prossime ore di mercato stasera potremmo avere delle novità nelle corse da tutto campo si parla di un Napoli in contatto costante con il Tottenham per l'acquisto di Capù il centrocampista francese si parla anche del difensore brasiliano Enrique sinceramente su Capù non mi esprimo Enrique come valutazione di cosa può fare in Italia Enrique nemmeno lo conosco quindi tutto da vedere che cosa succederà abbiamo detto molto bene di Giorginio caso per caso giudichiamo gli acquisti del Napoli eventuale poi tiriamo il bilancio sul mercato che finora può essere considerato negativo perché effettuato il ritardo poi alla fine lo giudicheremo proprio nella sua interezza